Un nuovo potabilizzatore a Bubano, frazione di Mordano, con una potenzialità quadrupla rispetto all'attuale e una nuova condotta che collegherà l'impianto alla rete idrica di Castel Bolognese. Sono questi i punti di partenza di un progetto più ampio di ottimizzazione e potenziamento del sistema idrico locale e della sua infrastruttura, che coinvolgerà non solo questi comuni ma un territorio ben più diffuso, in primis Imola, Mordano, Riolo Terme, Bagnara di Romagna e Solarolo, ma anche con Selis e Sant'Agata sul Santerno, Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo e Medicina, per poi ampliarsi progressivamente anche ai comuni di Dozza e Massa Lombarda. Il progetto è stato presentato questa mattina a Castel Bolognese, in una conferenza stampa in municipio, alla quale hanno partecipato il sindaco di Castello, Luca della Godenza, il sindaco di Imola, il presidente dell'assemblea dei sindaci del Konami, Marco Panieri, il presidente di Konami, Fabio Bacchilega, l'amministratore delegato del gruppo ERA, Orazio Iacono, il direttore generale dell'azienda di regolazione dei servizi pubblici locali e ambientali della regione Emilia Romagna, Vito Belladonna e la vicepresidente della regione, Irene Prioli. Presidente, quale è la presentazione di oggi? La presentazione di un progetto che parte da lontano, da quasi vent'anni fa, è un progetto che vede sostenibilità economica all'interno del piano industriale e trianale di Konami, è uno dei massimi investimenti mai realizzati, guarda l'innovazione, guarda allo sviluppo sostenibile di questi territori, sono 13 comuni di due province, Bologna e Ravenna. Cambierà un po' tutto? Sicuramente non cambierà, ma sicuramente andrà ad implementare quello che è lo sfruttamento delle risorse, quindi meno tingimento dei pozzi, realizzazione di nuovi chilometri di acquedotti per mettere in interconnessione questi 13 comuni. Certamente tutto servirà anche a potenziare quello che potranno essere i sviluppi industriali e anche abitativi di questi territori. Qual è l'investimento di Konami? Konami sull'investimento complessivo che cuba oltre 42 milioni, investirà una somma superiore a 30 milioni di euro.